Ben ritrovati amici di TuttoBari.com, terza vittoria da parte dei Biancorossi. Qual è l'umore dei tifosi? Bombersimedi, titolare o in corso d'opera? Sono alcune delle domande che abbiamo rivolto ai tifosi Biancorossi in giro per la città. Andiamo! Bellissima, stanno giocando benissimo. Mi piace proprio la scuola quest'anno rispetto all'anno scorso. Li vedo molto più motivati. Il gioco, l'impegno, la voglia che è fondamentale comunque. Poi abbiamo l'allenatore che sa come prenderli ed è importante. La partita oggi dura 95 minuti, non dura più 90 minuti, perché con tutte le cadute che ci sono, un minuto di recupero là, un minuto di recupero là, ed è fondamentale che Simeri quando entra nel secondo tempo è più carico, è più motivato. Il secondo tempo è una squadra prepositiva, non negativa. Non ma c'è avvenzione. Io posso stare a cazzeggiare il primo tempo, ma in secondo te io abbatto, devo battere. Io devo uscire dal campo, almeno che ho segnato due o tre gole e noi i giocatori ce li abbiamo. Ma è un'impressione di attesa, nel senso che stiamo vedendo che c'è uno sforzo da parte della società. E quindi questo va apprezzato. È chiaro che i tifosi cercano sempre il risultato migliore, però mi sembra che l'impegno ci sia e quindi siamo fiduciosi. Almeno io penso che comunque i risultati arriveranno. Mi sembra un buon collettivo. Torno allo stadio volentieri. Mi piacerebbe dall'inizio. Tuttavia credo che se lo sta utilizzando, come diremmo noi a Bari, un po' a mezza serranda, ci sarà anche un motivo di natura fisico o tecnico. Per il momento credo che vada bene così, però col proseguo mi piacerebbe che iniziasse a giocare anche dall'inizio. Sicuramente hanno dimostrato che è un'altra squadra. È importante rimanere in testa, ragazzi. E beh, forza Bari. Per Simeri, secondo te dovrebbe giocare di più o va bene come lo sta? Al momento, per quel che sta facendo, secondo me va bene. Abbiamo visto che quando è stato schierato dal primo minuto, sicuramente fa la sua parte, però da sostituto fa di più. Ma Simeri è stato sempre uno in questi anni che comunque ha sudato la maglia, quindi si merita il rispetto di tutti i tifosi. Ora gli sta andando bene perché è partito dalla panchina e sta segnando sei punti pesanti, quindi... Ma va bene così? Si meriterebbe anche una chance magari dal primo minuto, però voglio dire, finché segna va bene così. Io spero che questa sia la prima volta che ci porti in Serie B, perché da che è venuto il presidente De Laurenti, secondo me, ci ha preso in giro soltanto, perché vedi la Ternana, ha voluto andare in Serie B, si è fatta la squadra, a Natal già stava in Serie B. Però le sensazioni che ha in questo... Quest'anno invece pare che ci sia la volontà di andare in Serie B, vedendo gli acquisti. E ho notato che ci sono le sostituzioni per ogni ruolo, quindi il campionato lo può affrontare con più tranquillità e con gente competente. Secondo lei Simeri dovrebbe giocare di più oppure va bene questo minutaggio? Secondo me Simeri dovrebbe giocare di più e Antenucci dovrebbe essere sfruttata al momento opportuno. Sembra abbastanza effervescente quest'anno la squadra, quindi mi auguro per il Bari, anche se non sono di Bari, ma tifo Bari che possa fare uno splendido campionato. Secondo te Simeri dovrebbe giocare dall'inizio oppure va bene come lo sta utilizzando Mr. Mignani? La gestione dell'allenatore non la discuto mai, quindi va bene secondo me le decisioni della messa in campo. Mi sembra abbastanza valida come squadra, c'è da lavorare ancora, ma secondo me può andare avanti. Secondo te Simeri dovrebbe giocare dall'inizio oppure va bene come lo sta utilizzando Mr. Mignani? Secondo me fa bene utilizzarlo dopo il primo tempo, comunque a metà, perché può dare di più, ci mette più intensità, quindi va bene così secondo me. Essendo un mio pupillo io direi proprio di sì, quindi per me va inserito dall'inizio. Dovrebbe giocare di più o va bene così? No, forse dovrebbe giocare di più. Rispetto allo scorso anno, secondo te cosa è cambiato? È cambiato tanto, il gioco si vede e le partite parlano voglio dire, non è... Secondo te Simeri dovrebbe giocare di più o va bene come lo sta? No, per me Simeri dovrebbe partire il secondo tempo come sta andando perché è più motivato, è più motivato e secondo me le porta fortuna se gioca al secondo tempo, se lo mette dal primo tempo non rende. Una domanda al volo, siamo qui all'interno dello store della SSC Bari, qual è la maglia più venduta? La maglia più venduta è la rossa. E di quale calciatore? Di quale calciatore e di Antenucci. Ah ok, quindi Antenucci... Non è sempre lui in testa, sì.